Via la macchina! Dal centro la romanza si staglia nettamente nei confronti di Rai FDBL. Cavalli che affrontano la piegata, scende la romanza che poi galoppa e punta in avanti Rai TRLF. A largo di tutti invece runi d'oro, lungo i birilli la ruggiada Lewis. Lancio in 15.4, si presenta, bussa, chiede strada, freeway per Rai TRLF, incumbe, raskin in runco, pedinato da Runei d'oro. E così si va, dopo 400 in 30 e dopo 500 metri di gara, i due perfettamente apparigliati con il targato runco che impegna Rai TRLF. Sta passando in vantaggio l'allievo di Minopoli, 44.1, vi ricordo che è un doppio chilometro, e siamo al completamente o quasi della piegata. Nelle posizioni di coda, ora tenta la risalita, il netto favorito a chiuso 1.39, Revelino Jet. Mezzo miglio, in un minuto e un po' di spiccioli, si è andato forti e ora va in carburation il targato Jet di Romeo Gallucci e punta in avanti. C'è l'opposizione di Runi d'oro, ma lo scavalca e si presenta sul leader. Primo chilometro, nell'ordine del 14 e mezzo addirittura, io ho 15 e un po' di spiccioli. E Revelino, continuando nel suo sforzo, sta passando già a metà della piegata. Passa Revelino e al mezzo miglio conclusivo è il nuovo leader. 15 e 4 impiegata, e così ora il Jet di Romeo, Naglo, il colore della Marzia, al comando. 600 finali, 14 e 8, ancora una frazione redditizia di fronte, che consente al leader riprenderne un paio di lunghezze di vantaggio. Muove Rai TRLF, mentre il leader allunga e si distende, 1.59.3 sul mio cronometro e il miglio. E si va al completamento della piegata, con Revelino per proprio chionto in orgogliosa solitudine. Poi un ottimo Rai TRLF, viene via bene Raffi di Bielle. Revelino, Rai TRLF, Raffi di Bielle, sul traguardo, a debita distanza, dietro un turbo chiamato Jet. Questo è il probabile ufficio ci arrivo, leggo 1.13.8 addirittura sul doppio chilometro. Io ho 2.28.7, però da start a starter, con i 100 metri iniziali. Signori, chapeau, il team dei chiattoni animati, Romeo Gallucci, e questi Jet volano per davvero. Toni Atti Jet, anche in questa prima del convegno. Alla grande l'LF di Gaetano Di Nardo, bene il DBL di GP Maisto. L'ho detto già in cronaca, 1.39 la quota. Onestamente, ho preso anch'io 20 euro e non poteva pagare di più. Linea da regia!